Serviva una vittoria e così è stato. Il Rende si impone per 2-1 ad Aversa e blinda l'obiettivo playoff. La squadra di Trocini approfitta così anche dei risultati delle dirette concorrenti. Il pareggio della Cavese contro il Gragnano e la sconfitta a sorpresa dell'Igia Virtus contro la Turris. Il secondo posto ora dista solo quattro lunghezze. Protagonista assoluti di giornata, Actis Gorett e Vivacqua. A sorpresa, il derby tra Castro Villari e Roccella se la giudica proprio la squadra del Pollino guidata da Ghetano Di Maria. La giusta risposta per scrollarsi di dosso il fantasma eccellenza sempre più vicino per i rossoneri e la seconda vittoria stagionale in casa. Inarrestabile invece la Palmese che spugna il campo della San Cataldese per 2-0. Per i Nero Verdi si tratta della quarta vittoria esterna nelle ultime cinque gare, allungando la serie positiva e continuando a sognare i playoff. Torna con un punto il Sersale che poco a nulla serve ai fini della classifica. Una vera battaglia in trasferta contro il Pomigliano, formazione che viaggia tranquilla verso la salvezza. Occasione sprecata invece per i giallorossi. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.